salve ragazzi oggi vi parlerò di una delle ville infestate più famose d'italia ovvero villa de vecchi situata cortenova in provincia di lecco villa de vecchi fu voluta da felice de vecchi eroe delle cinque giornate di milano e comandante della guardia nazionale abbindo una frazione di cortenova nel cuore della valsassina la villa è conosciuta prevalentemente con il nome di casa rossa per via del colore originario delle pareti esterne colore ormai quasi del tutto sbiadito i lavori di costruzione dell'edificio ebbero inizi nel 1854 ad opera dell'architetto alessandro sidoli e si conclusero nel 1858 oltre all'architettura eclettica della struttura che mischia elementi ripresi da diversi movimenti storici contemporanei ed esotici la villa era anche redata con oggetti e mobili provenienti da varie parti del mondo questo perché il conte de vecchi che viaggiò parecchio per motivi di affari era anche un grande appassionato dell'oriente e voglio usare nella struttura un arredamento contaminato da varie culture la casa era composta da tre piani più un seminterrato dedicato alla cucina il piano terra era il livello più vissuto della casa conteneva infatti le stanze personali del proprietario la stanza da pranzo e le camere degli ospiti al secondo piano vi erano agli alloggi della servitù al terzo e ultimo piano rimasto in completo sarebbe dovuto essere allestito un osservatorio astronomico l'intera villa essendo stata costruita su un palco di 130 mila metri quadrati risulta circondata da un grande giardino al cui interno a quanto pare vi era una fontana oggi misteriosamente scomparsa proprio da questa fontana qualcuno raccontò di aver visto zampillare del sangue ma ovviamente si tratta solo di una leggenda metropolitana nel 1860 all'interno della villa fu organizzata una solenne cerimonia per festeggiare la caduta degli austriaci avvenuta a seguito della battaglia di magenta in quell'occasione al conte dei vecchi fu donata una bandiera di seta con ornamenti d'oro benedetta nel giardino della villa al cospetto di numerose guardie civili e nazionali due anni dopo però il conte felice dei vecchi morì lasciando la villa nelle mani del fratello biaggio che non avendo figli o eredi si stabilì nella villa abbandonandola però dopo pochi anni la villa fu così lasciata alla sola manutenzione di una famiglia di custodi proprio nei pressi della casa rossa fu costruita la dimora dei custodi una casa con lo stesso stile di villa dei vecchi e conosciuta come la residenza della famiglia negri la casa rossa fu abbandonata ufficialmente nel 1938 proprio dall'eredi della famiglia dei vecchi successivamente divenne dimora di alcuni sfollati e nel 1959 venne acquistata dai medici di marignano all'inizio degli anni 80 invece fu rilevata da alcune famiglie di imprenditori locali purtroppo negli anni fu depredata dall'arredamento e vandalizzata a stimolare questa attività vandaliche furono le varie storie inquietanti che girano riguarda la villa e che secondo i racconti di vari siti sarebbe uno dei luoghi più infestati d'italia tra le storie più frequentemente raccontate ci sarebbe quella dell'inquietante lamento femminile proveniente dall'interno della villa udibile nelle notti del solstizio d'estate o d'inverno i versi sarebbero con molta probabilità quelli della moglie dello storico proprietario che sarebbe stata uccisa proprio nelle stanze dell'edificio un'altra versione di questa storia vorrebbe che il conte recatosi nei boschi per una passeggiata abbia trovato la moglie horrendamente assassinata anche la sua unica figlia sarebbe scomparsa probabilmente rapita dallo stesso assassino della donna il conte disperato avrebbe deciso di abbandonare l'edificio condannandola a una fama di luogo maledetto c'è anche chi racconta che di notte è possibile sentire qualcuno suonare un pianoforte strumento realmente presente all'interno della villa anche se completamente distrutto e inutilizzabile ma si parla anche di numerosi suicidi inspiegabili e morti violente a queste tragedie sarebbe però legata una delle figure più inquietanti e discusse del satanismo ovvero alister crowley negli anni venti crowley e i suoi seguaci si sarebbero messi alla ricerca di un luogo dove fermarsi e dare vita a una comunità dedita al culto di satana e sacrifici umani crowley avrebbe scelto per i suoi scopi proprio la casa rossa ma dopo avervi dormito per un paio di notti e aver incontrato l'ostilità delle popolazioni locali decise di levare le tende e trasferirsi altrove insieme al suo gruppo di seguaci peccato però che le voci sulla visita di croley siano completamente inventate così come le storie sugli omicidi e sulle messe sataniche a smentire infatti tutte le storie che girano riguarda la casa rossa è proprio giovanni negri figlio di antonio l'ultimo custode della villa che in un'intervista di un noto giornale locale smentisce i vari racconti inquietanti e le leggende riguardanti la tenuta ed è lo stesso negri ad affermare di aver sentito i primi racconti di terrore sulla villa dai bambini che venivano in villeggiatura nella valle proprio questi innocenti racconti tra bambini si sono andati ad allargare a macchia d'olio privi a del turismo e di internet e l'aspetto inquietante il completo stato di abbandono in cui versa oggi la villa non hanno sicuramente aiutato a smentire tali voci anzi hanno alimentato proprio la curiosità dei più coraggiosi che dopo averla saccheggiata l'hanno trasformata in un luogo ideale per i tossici negli ultimi anni si è cercato di sensibilizzare l'opinione pubblica proprio riguardo allo stato di degrado dell'edificio e i vecchi proprietari sono anche disposti a cedere gratuitamente la villa a chi fosse disponibile a ristrutturarla purtroppo però la cifra richiesta per questa operazione e il pericolo idrogeologico particolarmente elevato bloccano almeno per il momento ogni possibile intervento di restauro